Un insigne avvocato napoletano è venuto a inaugurare il congresso forense, l'avvocato Enrico De Nicola. Il capo della Repubblica visita frattanto la mostra di ottica, lo accompagnano gli onorevoli Terracini e Orlando. Questa è la macchina stereofotogrammetrica che trasforma una carta geografica in un rilievo. Firenze è stata fra le città primatiste nella votazione per la Repubblica. Nel Presidente vede la sua collettiva unanime aspirazione impersonata e divenuta realtà. De Nicola si affaccia a un balcone senza altoparlanti, il suo saluto familiare a piene mani è come un rispondere dell'Italia a ciascuna delle sue città. Passiamo in service al Presidente!